Cari amici del Tubo, ciao! Come state? State bene? Io mi auguro che state bene e anche io mi vado riprendendo. Mi vado riprendendo anche perché poi il giorno 24 vedremo che cosa mi dicono. Però mi arrangio, mangio, va bene, mangio. Potete stare tranquilli su questo anche perché dobbiamo mangiare noi per questo periodo di freddo. Nel freddo si mangia, non so che ghe, capito? Io che giochiaio su te ranfe, ranfe mangio, capito? Questo è. Oggi io ho una bella cena, una bella cena, un piatto di mamma Paola, esclusivo dall'Umbra, direttamente dall'Umbra. Le cose le fa lei, capito? Perché avevi tanta pazienza. Le polpettine a brodetto, guardate, fatte proprio da lei. Ecco, già io mi venirei mangiando a gheccare me la cussè, vedete? Le polpettine perché col brodetto oggi ci abbiamo fatto la pastina, capito? Perché io per ora ho visto che posso mangiare pastina. Se è nata però un pezzo di carne mi arrosecavo perché era tenera. Nel senso che era proprio bella bollita. C'è la carota, c'è la patata. Bi, 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 sasira mi guariamo i piere. Sasira mi guariamo i piere. Ah, poi se così palla, signori miei, mantengono. Mantengono che neanche potete immaginare come mantengono caldi, veramente. E io ho, i piigiamoni richiesti. Ora per ora sono cattuto perché mi sto muovendo che devo scendere a fare delle compre, capito? Ora ci sono cattuto che fanno finta come capiscono. Capito? Tutto qua. Fanno finta, capito? Cosa hai detto? Perché mi vogliono fare parlare. Mi vogliono fare parlare così per dire. Ci fu uno che si ha messo l'occhiale e metta l'ora così. C'è, i rientri mi mancano. Tranquillo, non c'è bisogno che ti metto l'occhiale. C'è, signora, mi dispiace. Dice, come mai? C'è, no, e come mai? Capita, c'è, signori. Dice, non è che qualcuno ce l'ha fatto cadere. Puro che su cave, oh, babè, c'è, c'è, zitto, se mi riesce, ti faccio cadere io. A dare, certe volte, anche tanta confidenza ai negozianti di fiducia. Eppure ho sbagliato. Uno deve entrare, buongiorno, buonasera, mi dia questo, pago e me ne vado. No, invece di stare là, certe volte parlare, fare e dire. Ho vedi che conferenza che si è piaciuto con me? Infatti ho passato un rito, chissà, chiedere una vocaputria. E io mi taglio. Dice, che fa, mi ha tradito, ti ho tradito, che la cosiddetta deve vincere parcare. Ho capito? Dice, ma come mai sei andata in un altro negozio? Tu sai il motivo, qual è? Ho fatto bene? No, signore, se fa così. Se fa così, perché se no c'è proprio in essere pazza. Avevo la stufa a due candele. Una candela si è rotta e ne è rimasta solo una. Ma qua li ha. Qua li ha. E poi, signori miei, le cose calde sono quelle che contano. Mangiare cavoli, cose belle. Capito? Fare queste cose lecca, verdure, mangiare tante verdure. Asci cuore al cera puro. Non si fisse più. Asci cuore al cera puro. Ora, naturalmente, arriveranno altre verdure. E qua arrivano i cose, la così. E come vuole sentere me siente. Capito? Che dice sempre, stai zitta non parlare. Stai zitta non parlare. E si, con chi vuota scoppio. E vabbè, signori miei, che dobbiamo fare? Innanzitutto vi saluto a tutti. Vi raccomando, se avete la borsa calda, io laio. Chi da cupopazzino, l'avete vista? Ci metto stasera in mano da rincia. Signori miei, è questo bello manciariello. Cosa cosa di qua, si sta veramente. Va bene. Saluto tutti voi. Saluto pure mamma Paola. Ciao mamma Paola. Chissà dov'è mamma Paola, chissà dov'è. Però ha fatto le polpettine, mi mannò. Oh, vedi? Eccan. Troppo belle. Magari una l'assaggio per far vedere, capito? Squaglia non mucca. Ma sono di una bontà unica. Veramente. Squaglia non mucca. Quindi stasera, bella cena. E ora, ora, aspetta che ora, un minuto solo qua. C'è chiamare. C'è chiamare. Un attimo solo. Vediamo dov'è qua. Un laio più. Un telefono. C'è. Qua. C'è chiamare davanti a voi. Ora, asce cuore o nece, ricco? Asce cuore, a bella capura. Eccola qua. Perfetto. Vediamo un po'. Sentiamo un po'. Avogli vi dura ora che ci sarà. Chiama, chiama. Silenzio. Silenzio. Mettiamolo così. Poi si sta parlando con qualcuno. Pronto? Eh, senti qua, mamma Paola. E sono io che sto registrando il video. Ma, a sicoria non si fice più. Quando sa fare questa sicoria? No, a sicoria amma fare, è vero. Amma fare a sicoria. Andiamo a farla, dai. Come non amma farla? Che significa? Può riuscire a sicoria. E beh, che vuoi? Non la facciamo? Pitina, che facciamo? È mangiata aria, che è mangiata aria. Non lo so, ma neanche no, 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 neanche c'è freddo. Queste cose bastano, chi dici? Ma dopo non si ammoccia a sicoria, non si ammoccia? Non ti preoccupare, ammoccia ma non mai come pino. Capito? No, pino è tutto muscio, adesso sta qui. Ah, ecco, sta con te, mio marito è con mamma Paola. Sì, lo so, lo sto facendo un pochino a drizzare. Ah, ok, bella, poi allora andai, sperai andai a tempo. Va bene, ciao mamma Paola, ciao, ciao. Ciao, ciao, vi saluto a tutti, eh, ciao. Ciao, 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 ecco qua, signori mie, ma come sai, fai mangiata aria? A mia mi dice che mangia come una formica, ma quando mai? Mangia, o vedete che fai? Mangia tanto. Un abbraccio a tutti voi, grazie sempre per la visione e sempre, diamo sempre un piccolo sorriso, cerchiamo sempre di sorridere un po'. Ok, un bacio affettuoso a tutti voi, ciao. Ciao.